Hola Gringos, salvi a tutti e ben ritrovati ancora una volta su Mucchio TV io sono VigiFuture, in questo video di GTA 6 che tutti voi aspettavate ho racchiuso un po' tutte le ultime notizie dell'annuncio eventuale di GTA 6 a quanto pare l'annuncio si sta sempre più avvicinando e allora andiamo a vedere subito questa notizia che è molto molto interessante la prima notizia di cui parleremo oggi è questa qui che ha postato TOMS la versione di TOMS italiana dice GTA 6 svariate informazioni, l'annuncio si avvicina ormai sono svariati anni che parliamo di Grand Theft Auto 6 e del possibile annuncio noi stessi abbiamo deciso di evitare di riportare ogni notizia per evitare di creare troppa confusione scelta saggia, dico tuttavia a questo giro sembra che ci siamo davvero l'annuncio potrebbe avvenire questa estate magari durante la Summer Game Fest o lo showcase PlayStation quest'ultimo molto probabile e qui vediamo subito qualcosa di interessante ovvero una lettera dove ci sono delle censure per non far vedere appunto il mittente ma qui ovviamente ragazzi è in inglese io ovviamente l'ho tradotta in italiano eccola qui tramite il traduttore di Google la leggiamo insieme Gentile Gilda speriamo che questo messaggio ti trovi bene vorremmo contattarti in merito a un'opportunità pubblicitaria sulla tua proprietà The Guilty Downtown si trova a Miami nello specifico siamo interessati a posizionare un poster pubblicitario sul lato esterno del garage visibile da Biscard BLVD il nostro obiettivo è promuovere un gioco AAA in una delle nostre filiali per un periodo di 12 mesi su quel lato del parcheggio a partire dalla fine dell'estate del 2023 riteniamo che questa partnership non solo aumenterebbe l'esposizione del nostro marchio ma aumenterebbe anche l'esposizione della proprietà dell'hotel la location che proponiamo è altamente visibile fornendoci la piattaforma perfetta per promuovere il gioco siamo disposti a coprire tutti i costi associati al posizionamento del poster inclusa l'installazione, la manutenzione e la rimozione vi assicuriamo che l'annuncio sarà in linea con l'estetica dell'edificio e soddisferà tutti gli standard necessari inoltre siamo disposti a collaborare con voi per progettare un poster che integri il design e l'architettura dell'edificio per favore fatemi sapere se avete bisogno di ulteriori informazioni o avete dubbi sulla nostra proposta anche se quei periodi sarebbero riservati siamo entusiasti dell'opportunità di collaborare con voi a questo progetto e di entrare più nel dettaglio non vediamo l'ora di sentirvi presto poi qui distinti saluti appunto qui si vede Take Two Interactive Software Inc. e poi ci sarà il direttore qui che è stato diciamo censurato dell'albergo probabilmente l'albergo dove vogliono fare questa pubblicità qui ci sono anche altri dettagli ovviamente ragazzi questa è la traduzione letterale però l'informazione sembra essere in qualche modo attendibile questo vuol dire che in qualche modo l'annuncio di GTA 6 effettivamente si fa sempre più vicino dopo tutto che il gioco esiste non è un mistero nel corso dei precedenti mesi erano stati liccati addirittura dei video reali dello sviluppo video che non solo hanno rassicurato sulla presenza del gioco ma messo anche in mostra delle meccaniche che sembrano davvero notevoli secondo le ultime informazioni i due protagonisti dovrebbero chiamarsi Lucia e Jason pronti a vivere un'avventura alla Bonnie e Clyde a Vice City inizialmente il progetto era di ambientare il tutto tra gli anni 80 e 90 ma visto il successo di GTA 5 Rockstar Games si sarebbe ritrovata in difficoltà nella scelta riportando tutto ai giorni nostri scopriremo la decisione finale del team di sviluppo solo durante l'annuncio ma sarebbe davvero bello rivedere un gioco di GTA a cavallo tra quei due decenni magari con la possibilità di incontrare vecchi personaggi come Tommy Versetti o CJ qualcuno ha anche ipotizzato un salto temporale la cosa non sembrerebbe neanche così strana visto che Rockstar ci è abituato già con Red Dead Redemption l'informazione più interessante riguarda però l'intelligenza artificiale dei poliziotti all'interno del gioco sembrerebbe che gli agenti di polizia si posizionino in base alla distanza del bersaglio si nascondano, si coprano insomma si punta a un rivoluzionario del IA in un videogioco open world e a essere sinceri non sarebbe nemmeno così male a dare ancora più credibilità all'annuncio del gioco tra maggio e giugno è certamente un documento trafugato che segnalerebbe l'inizio di una imponente campagna di marketing a Miami, città che ha ispirato Vice City da parte di Take Two non ci resta che aspettare e questa era una delle informazioni secondo me tra le più interessanti perché ci va a dare effettivamente un'indicazione per quanto riguarda l'uscita dell'annuncio di GTA 6 e ancora c'è quest'altra notizia molto interessante che dice GTA 6 i modelli 3D del personaggio femminile di Lucia hanno mostrato il suo primo look i dettagli di rilascio e annuncio di GTA 6 sono ancora imprevedibili ma alcuni leak precedenti hanno già rivelato molti componenti interni del gioco come le informazioni riguardanti i suoi nuovi personaggi e la mappa ma ora alcuni ultimi rapporti stanno chiarendo alcune informazioni in più sull'imminente personaggio femminile in quanto un artista del personaggio ha realizzato alcuni modelli 3D del suo aspetto il che sta rendendo i fan più entusiasti tutti i dettagli del personaggio di Lucia di GTA 6 vedendola così sembra un po' elodino effettivamente però più avanti vedremo c'è anche un video se è anche un fan di GTA allora potresti già sapere che GTA 6 avrà nuovi personaggi principali in quanto ci sarà una nuova storia è una fuga di notizie di Jason Shader di Bloomberg lo scorso anno ha affermato che GTA 6 avrebbe avuto una protagonista femminile notevole che si diceva fosse una latina come dicono le fughe di notizie questo personaggio si chiamerà appunto Lucia e ora un disegnatore di personaggi di nome Ossain Diba ha creato una descrizione incredibilmente accurata di quella protagonista femminile in arrivo nelle immagini e persino nei video che puoi vedere qui sotto questo è il video di questo personaggio guardate come è dettagliato questo video ma la parte più importante ovviamente ragazzi è il volto questo l'abbiamo visto diciamo ecco metterei un attimo pause in questa maniera ragazzi questo davvero sembra Elodie veramente sembra il personaggio della nostra cantante Elodie cantante anche attrice e infatti qui dice inoltre Ossain ha rilasciato quei modelli 3D di Lucia su un popolare sito web chiamato ArtStation dove migliaia di fan lo hanno apprezzato forse si starei chiedendo come questo disegnatore di personaggi sia stato in grado di trarre ispirazione per Lucia quindi se ricordi la massiccia violazione dei dati sul canale Slack di Rockstar Games la cui mente ha fatto trapelare circa 90 video clip del test di gioco questi video ovviamente ragazzi si trovano ancora in rete ma è sempre più difficile io ho messo una piccola parte di questi video sia sulla nostra pagina Facebook che quella Instagram e l'artista ha analizzato il personaggio di Lucia da alcune di quelle clip ecco perché ti consigliamo di prenderlo con le pinze poiché le immagini nei video di cui sopra si basano solo su speculazione i funzionari non hanno confermato nulla su Lucia tuttavia il personaggio nel rendering sembra impressionante e molto dettagliato se la Lucia del gioco assume lo stesso aspetto non sarà deludente inoltre molti informatori hanno già rivelato che il personaggio femminile di GTA 6 Lucia sarà interpretato da Bunny Parker una popolare rapinatrice di banche del XIX secolo separatamente puoi anche controllare alcuni livelli diversi di questi modelli su Art Station e questo era tutto per quest'altra notizia secondo me molto di rilievo perché appunto ci fa vedere un po' meglio quello che potrebbe essere il personaggio di Lucia e devo dire almeno a livello di caratterizzazione se sarebbe così devo dire che non è niente male poi non so magari in futuro vedremo pure delle immagini del personaggio maschile che ovviamente sarà l'altro personaggio principale qui in GTA 6 potrebbero avere anche altre sorprese ragazzi perché ripeto queste sono solo speculazioni unite a fughe di notizie poi ancora abbiamo ancora una notizia che riporta un attimino alla mappa che abbiamo visto pure nello scorso aggiornamento e dice concetto di mappa trapelato di GTA 6 che mostra il doppio della mappa di GTA 5 ragazzi questo sito come quello precedente sono siti americani che io ho tradotto ovviamente tramite google traduttore GTA 6 dovrebbe ora ottenere un importante aggiornamento della sua mappa come suggerisce un nuovo concetto di mappa del gioco trapelato al momento non esiste una dichiarazione ufficiale in merito a questi aggiornamenti della mappa ma questi concetti di mappa aumentano le aspettative per quello reale quindi discutiamo tutti i dettagli di seguito intanto andiamo a vedere diciamo questa mappa ingrandita eccola qui ragazzi l'abbiamo vista anche nello scorso video la mappa ma qui abbiamo dei dettagli maggiori possiamo vedere le varie città che contiene la mappa Cotton Mount Turismo Vice City Vice Beach Fort Lavander West Palm Beach insomma ci sono davvero tante tante mappe tante location appunto e poi c'è quest'ultima location K South e devo dire che poi rispetto alla mappa che abbiamo visto di GTA 5 nello scorso video confronto che abbiamo visto sullo scorso video questa qui è molto molto più grande e la cosa interessante abituata anche agli standard di Rockstar questa mappa secondo me sarà pure molto dettagliata e con un livello di interazione sicuramente superiore a quello di GTA 5 che ragazzi GTA 5 ha attraversato tre generazioni di console una roba allucinante tra l'altro per alcune cose insomma abbiamo storto un po' il naso su GTA 5 perché tante interazioni non erano possibili come per esempio c'erano su GTA 4 ma anche su GTA Sant'Andreas voglio dire qui nel 5 abbiamo storto un po' il naso però probabilmente queste cose le rimetteranno in questo progetto ma perché dico questo ragazzi perché vabbè qua dice altre informazioni ma la cosa importante che volevo segnalare è questa qui ovvero una cosa che avevo effettivamente detto anche nello scorso video ovvero GTA 6 avrebbe un budget faraonico da oltre un miliardo di dollari stando a un rumor stando a un indiscrezione lanciata da Dex Reto il budget di GTA 6 si ammonterebbe a una cifra compresa tra 1 e 2 miliardi di dollari una roba ragazzi allucinante nessun gioco della storia ha mai avuto questo budget stando a un indiscrezione lanciata dal portale Dex Reto e successivamente apparsa anche nelle pagine di Insider Gaming GTA 6 potrebbe aggiudicarsi il record come gioco più costoso di sempre si parla infatti di un budget compreso tra 1 e 2 miliardi di dollari complessivi un dato da prendere assolutamente con le pinze ma se confermato parliamo di numeri davvero da capogiro di gran lunga superiori a quelli stimati per alcuni pesi massimi come Destiny 2 500 milioni di dollari Star Citizen oltre 500 milioni di dollari con crowdfunding Cyberpunk 2077 330 milioni di dollari e Call of Duty Modern Warfare 2 con 310 milioni di dollari ma voglio dire questo budget ipotizzato è davvero pazzesco appunto se confrontato a questi titoli qui persino GTA 5 ha richiesto investimenti nettamente inferiori 250 milioni di dollari anzi stando alle stime di Insider Gaming GTA 6 potrebbe costare più di tutti i capitoli principali della serie messi insieme e qui vediamo una stima di tutti quanti i GTA e come vedete quello più costoso fondamentalmente è stato il 5 qua addirittura si parla di 1-2 miliardi di dollari una roba allucinante ragazzi come detto in apertura parliamo di cifre talmente alte che è facile e comprensibile dubitare della veridicità di questa soffiata anche perché la forbice indicata è molto ampia detto questo è anche vero che GTA 6 è ormai in sviluppo da quasi 10 anni e sembrerebbe un progetto dalle dimensioni titaniche dai numerosi leaks apparsi in rete mesi fa se consideriamo anche che i costi di sviluppo in marketing che diventano sempre più grandi di generazione in generazione così come le ambizioni di Rockstar ecco che questa stima potrebbe non essere poi così assurda ragazzi se queste erano le principali notizie che ho selezionato in rete vi ricordo che in rete normalmente se ne trovano di ogni se si va su reddit se si reggono delle cose assurde ma anche dagli youtuber stessi non solo quelli italiani soprattutto quelli americani che ogni tanto inventano qualche notizia di sana pianta per avere la visualizzazione di più che poi si traduce in danaro quindi fondamentalmente io cerco di prendere tutte quelle notizie che hanno comunque delle fonti di verità come questa lettera che devo dire che è un grosso colpaccio perché se fosse vera una cosa del genere vuol dire che il lancio di GTA 6 sarebbe quasi imminente e questa è una cosa che ovviamente ci fa piacere per quanto mi riguarda io credo che GTA 6 quest'anno non lo vedremo l'annuncio sì ma per quanto riguarda il gioco assolutamente no se ne parlerà sempre entro l'anno prossimo questa è una cosa che mi sento di dire questa è una mia previsione poi se verrà smentito qualcuno di voi mi verrà sotto e mi dirà anche tu hai fatto speculazione invece no perché è semplicemente una previsione lasciate giù nei commenti il vostro pensiero riguardo queste indiscrezioni io vi ricordo sempre che abbiamo un gruppo di GTA 6 che è stato aperto da poco ma stanno entrando davvero tante persone quello che è diventato Red Dead Redemption 2 gruppo italiano che è il nostro gruppo tra i più grandi in Italia questo era tutto noi ci vediamo alla prossima ciao just like the street lights lit this town like a fire in a blaze gotta burn it down can't be afraid to live this out we got this far don't know how I'll see danger in our eyes they know we Grazie a tutti.